Un saluto agli amici della Casa Grave di Milano, oggi abbiamo fatto chiave con telecomando del Citroen C3 Chiude, apre, perfetto Vediamo se accende il motore Ottimus, alla grande, perfetto Vediamo, chiavi C3, Milano, casa della chiave number one Un saluto agli amici Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti